Ma non saremo uno di un po' presto? Ma che, anzi è tardi, sbrighi da mangiare che le 10 dove è andata selvaggia. Dobbiamo andare in albergo alle 10, dobbiamo andare in albergo alle 10. Senti papà, ci sono problemi se ci sganciamo? Come sarebbe? Beh, vedi, ho conosciuto una poco fa in albergo e ci siamo dati un mezzo appuntamento. E a che ora ve lo siete dati? Praticamente adesso. Bella, bisellone da papà! Ma che problemi, figurati, anzi se fa così, bravo. E dimmi un po', è olandese? No, è italiana. Meglio, l'italiana in vacanza sono i più troie. Ma dai, è una ragazzina. Direttamente. Come la vedi, parti con la mano, eh? Ti strusci un po', il movimento d'acca al vecino e gli fai sentire la seguoia. Quella si è sturba e ti sacca, calzi. Che c'è da guardare? E a proposito, ce l'hai preso, non riesce mai a dirlo, i presi, i protilattici. Veramente no. E allora che c'è sta a fa' papà? Eccoli qua! O sai come si chiamavano all'epoca mia? Il guanto di Parifia, bella cafonata. Speriamo che ti entrano, con quella torre del po' bella che se ritrova. Vai, 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 non fa aspettare la mignotella. So ragazzi, ci vediamo in albergo. Senti, a Dragon Ball, ma che mi hai dato? Il sushi. La Trifiana è qui, eh, ciao. Soltanto sushi, sushi. Ma tu mi sei la checia? Ma rifatti i denti. Il sushi. Il sushi.